buongiorno a tutti ragazzi ciao ben ritrovati non so se avete visto lì dietro c'era un ospite c'era il muso di un cane di alma ciao alma stavamo guardando e stavamo parlando di te ma oggi non è la giornata in cui parliamo di alma ma è la giornata in cui parliamo di sevilla juventus perché perché questa sera si gioca appunto questa semifinale di europa league semifinale di ritorno semifinale molto importante per la juve perché è l'unico trofeo che la juventus può agguantare può raggiungere può conquistare però per conquistare quel trofeo bisogna giocare e vincere la finale e questo sicuramente non è facile soprattutto se in europa e soprattutto se ti chiami juventus ieri sera vi ho parlato del della semifinale invece di champions league tra manchester city e real madrid partita meravigliosa spettacolare se volete sapere la mia opinione vi lascio comunque qui sopra nelle schede il video in cui ho parlato appunto di questi 90 minuti che speravo potessero non finire mai e ieri quadrado e leira hanno parlato no di questa partita cercheremo di prendere gli spunti più interessanti invece che commentare la conferenza con colpevole ritardo ma tutte le volte che la juve va in trasferta ci sono difficoltà nel reperire le informazioni e quindi andiamo ad analizzare quello che ha detto intanto tutti e due hanno parlato di sevilla juve come una finale non come una semifinale sarà perché si è pareggiata l'andata sarà perché non ci sono più i gol fuori casa che valgono doppio e tutte queste cose qui e quindi effettivamente è una mini finale se proprio vogliamo vederla così sevilla juventus è una mini finale quadrado quadrado ha iniziato con una battuta una battuta e vediamo allegri se riuscirà a tenere fede al consiglio da parte di quadrado perché dice dobbiamo essere alti dobbiamo pressarli alti se lasciamo loro il palleggio sarà molto più difficile questa cosa possiamo farla se il mister ce la lascia fare poi si mette a ridere e guarda allegri però è vero effettivamente così a maggior ragione contro una squadra come il sevilla che comunque abbiamo visto palleggia tanto se tiene la palla è un problema noi all'andata siamo stati molto orizzontali contro il loro ritmi molto anche bassi e questo poi ha portato a una partita brutta giocata male da parte della juventus con poche occasioni da gol con anche diverse ballate in difesa e con un miracolo finale il gol di gatti che va a riaprire paradossalmente tutto quello che può essere il risultato finale proprio regalandoci una sorta di finalina da giocare in quelli di siviglia quadrado dice mi è mancato un trofeo europeo ci sono andato vicino sarebbe un grande traguardo per i ragazzi per la società dopo un anno difficile dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione per farci questo regalo e regalo credo che sia un po la parola chiave no di di questa partita di questa stagione di questo trofeo perché noi spesso volentieri diciamo noi tifosi ci meritiamo qui e là loro l'hanno vissuta questa situazione per loro è stato ancora più difficile ancora più complicato quindi loro in primis vorranno farsi un regalo e scendere in campo con voglia e determinazione dovrebbe essere la base vedendo come siamo scesi in campo a san siro nella semifinale addirittura contro l'inter e all'andata nella semifinale d'andata contro il seviglia beh queste cose vengono meno poi allegri ha anche detto non sono queste le partite in cui io devo dire ai ragazzi che cosa significa dare motivazione perché sono partite che si preparano e si giocano da sole queste cose in realtà sono state un po dei difetti da parte della juve nelle gare clou fino adesso e non si può più sbagliare stasera sapremo di che morte morire sapremo se la stagione sarà completamente deludente o se avremo la possibilità di sperare e sognare per un ultimo trofeo addirittura europeo che non vinciamo da fin troppi anni io non ho mai visto la juventus vincere un trofeo europeo e quindi sarei contentissimo di alzare l'europa league vediamo che cosa succederà quadrado dice la cosa più importante però è la partita di domani al mio futuro guarderemo dopo guarderemo in seconda battuta sappiamo bene che quadrado è in scadenza del contratto sappiamo bene che l'anno scorso ha rinnovato con il più uno che è scattato pure per alexandro e a quanto pare l'anno prossimo scatterà pure per quindi tutti i contratti creati sulla stessa falsa riga qualche stagione fa quando le cose erano sicuramente differenti non credo che quadrado possa avere grossi margini per il rinnovo però attenzione che se poi alla juventus verrà tra virgolette bloccato il mercato non per via di una sanzione ma per via di necessità quindi poca possibilità a fare trasferimenti e calciatori che non sono attratti dalla prospettiva di andare in una squadra con dei problemi fuori dal campo lì potrebbe poi aprirsi uno spiraglio per il rinnovo di quadrado non lo so io credo di no però finché non avremo un'ufficialità finché non avremo la certezza da parte del diretto interessato da parte della società non potremo sapere e poi si passa massimiliano allegri che devo dire verità è sembrato calmo ma anche stanco e svuotato veramente allegri mi è sembrato stanchissimo un allenatore un uomo più che un allenatore un uomo che era veramente arrivato al suo limite massimo non ne poteva più non ne può più vuole vuole finirla alla svelta è infatti la definita annata floccoristica riferita ai punti in classifica che continuano a cambiare continuano a modificarsi questa situazione in cui non eri mai certo di quello che avevi conquistato quindi allegri molto molto stanco da questo punto di vista e probabilmente da altri che magari noi in questo momento non possiamo sapere ha detto una frase dove non sono d'accordo ma non sono d'accordo per fargli un complimento perché ha detto non sono stato né parafulmine né punto di riferimento io ho semplicemente lavorato insieme alla società io non sono d'accordo perché se dal punto di vista del campo credo che si possano trovare non una non due non tre ma un centinaio di colpe almeno nei confronti di allegri per tante partite che non sono state preparate con il pilio giusto tante partite che non sono state risolte dal lavoro dell'allenatore tante cose che sono mancate rispetto al primo ciclo di allegri ecco dal punto di vista invece della compattezza da cercare di tenere unito il gruppo anche nei momenti difficili e fare un po da parafulmine anche di fronte a diverse dichiarazioni diverse accuse con allegri che a volte doveva fare praticamente il dirigente in conferenza stampa beh queste sono tutte cose che invece io gli attribuisco i meriti perché secondo me allegri da questo punto di vista è stato bravissimo in questa stagione non so quante altre e ripeto non si parla di allenatori ma si parla di persone quanti altri uomini l'avrebbero portata avanti come allegri proprio con questo confronto mediatico e secondo me il fatto che sia stanco nasce proprio da questa cosa qui quindi se da una parte ci sono tante colpe per quello che è il lavoro dell'allenatore quello che dovrebbe essere il mettere in campo la squadra cercare di fare sostituzioni cercare di preparare un piano gara dall'altra parte secondo me allegri ha tanti meriti e se è arrivato così stanco così svuotato alla termine della stagione secondo me è anche per questa cosa qui perché non è stato nemmeno supportato dalla società nel momento più duro e quindi dopo le dimissioni del cda una cosa importante dice allegri la squadra sta bene abbiamo fatto dei secondi tempi increscendo non è solo importante chi parte ma soprattutto chi entra e di questo poi parliamo alla fine perché c'è un'altra frase di allegri che si collega proprio a questa cosa qui e poi invece sul discorso gli anni di maturazione non sono d'accordo ma perché secondo me non è vero quello che dice ogni calciatore ha un'età di maturità differente raggiungere la maturità in un'età differente ha fatto l'esempio di fagioli l'esempio di rabbio dicendo non è un caso che rabbio a 27 28 anni abbia raggiunto la maturazione magari fagioli lo farà a quell'età questi ragazzi magari a un certo punto sembrano imbattibili la volta dopo sembra che non sappiano più giocare a calcio io credo che fagioli come vi dicevo da un po' di tempo questa parte non si è più da visualizzare nel gruppo dei giovani fagioli un calciatore fatto è finito è un giocatore di 22 anni l'anno prossimo sarà un 23 anni che cos'è stato questo abbaio quindi non è assolutamente necessario cercare di inserirlo in quella categoria lì e ripeto ogni giocatore raggiunge la maturità in un anno differente in un'annata differente e secondo me allegri che fa l'esempio di rabbio sbaglia perché rabbio migliorato tanto l'anno scorso perché ha un altro ruolo in altri compiti ricorderete che l'anno scorso è stato schierato come esterno a sinistra nel 4 4 2 storto e lì veniva molto molto limitata tutte le sue caratteristiche le sue peculiarità e la sua presenza all'interno del campo dentro il campo nel recuperare palloni nel lottare con le mezziali avversarie tutte le volte che giochiamo contro Milinkovic Savic o Barella si vedono dei partitoni di rabbio contro giocatori di assoluto livello quindi secondo me anche questo anzi soprattutto questo influisce sulle valutazioni dell'anno scorso di rabbio e di quest'anno di rabbio l'anno scorso infatti zero gol segnati quest'anno è andato in doppia cifra non è una coincidenza assolutamente no allegri dice un dubbio in difesa un dubbio a centrocampo un dubbio in attacco la mia probabile formazione che vi faccio da un po lo sapete è scesni gatti danilo bremer costic quadrado rabbio locatelli fagioli non mi ricordo sono messo costi c'è sì di maria e milic questi sono i miei 11 secondo me ma ve lo dico da dalla partita concluse di serie a dal fischio finale dell'ultima partita di serie a per me questa era la formazione allegri parla di tre dubbi probabilmente sono gatti per alexandro fagioli per miretti e il dubbio in attacco uno tra vlaovic milic e moise ken e attenzione che se lato difesa sappiamo poco lato centrocampo sappiamo poco ma fagioli viene tra l'altro da da un gol e che gole che prestazione quindi mi sembrerebbe anche strano metterlo in discussione a meno che il dubbio non sia paredes per locatelli davanti il favorito sembra essere moise ken un'allegrata potrebbe essere vediamo che cosa succederà a me sembra strano perché ken in questo momento viene da qualche partita in cui non gioca quindi la forma fisica non sarà sicuramente delle migliori però le proprie informazioni in questo momento danno ken come favorito per partire in attacco mi meraviglierebbe davvero sarei molto molto sorpreso da questa cosa ma vediamo io mi aspettavo milic con chiese vlaovic come armi a partita in corso dovrebbe esserci o campos di là e vi dico così perché ieri su twitter mi apparso un tweet proprio di o campos in cui mostrava goku con il fagiolo di balzar e quindi sembrava quasi come per dire goku mi ha dato il fagiolo di balzar ho recuperato sarò della partita all'andata l'abbiamo sofferto molto e colgo questo assist di o campos con questa parte particolarmente nerd ma che io ho apprezzato tanto da buon nerd quale sono per ricordarvi che ho un secondo canale che tratta proprio questo tipo di argomenti dragon ball pokemon e tutte queste robe qui lo trovate comunque sempre qui sopra nelle schede o comunque nell'home page del mio canale youtube ragazzi questo è tutto questa è la preview di juventus sviglia sviglia juventus sappiamo come gioca noi abbiamo visti all'andata se volete vi faccio anche una sorta di percentuale di passaggio del turno della juve secondo me la juve è leggermente favorita nonostante si giochi in trasferta se devo dare delle percentuali per me è 55 per cento passaggio del turno juventus 45 per cento siviglia non vedo una juve nettamente favorita perché all'andata ci ha messo in difficoltà perché abbiamo visto che sono una squadra in grado di poter massimizzare quei pochi punti di forza che hanno e perché la sarà un inferno ho visto anche tifosi del siviglia dal vivo allo stadium e hanno cantato e saltato per tutta la partita è stata una festa un sostegno altissimo da parte nostra noi siamo la squadra più forte io credo veramente che la juventus sia estremamente più forte del siviglia ma se siamo in campo come all'andata non c'è possibilità di passaggio del turno e anzi si riesca di fare delle figuracce quindi secondo me la juventus è favorita non è la favorita di tanto leggermente favorita stasera però al di là di tutto al di là del favorito al di là dell'atteggiamento di tutte queste cose qui bisogna veramente scendere in campo con una convenzione non si può essere eliminati da questa semifinale d'europa league bisogna arrivare in finale bisogna cercare di alzare quella coppa anche perché noi ci guardiamo un po intorno il napoli vince lo scudetto l'intero in finale di champions magari la roma va in finale d'europa league magari la fiorentina va in finale di conference noi cosa facciamo stiamo a guardare in attesa del 22 dove ci erano altri punti bisogna anche iniziare a dare un senso no a questa stagione l'unico modo per farlo e appunto cercare di battere se via questa sera